Pianco, vanno Pianco! Vanno Pianco, vanno Pianco! questo esprim lo hai che grabarlo perché va a fare la maldita Castana per il secondo ruolo di Capo Escolò a distanza per la scuola per il seguire esattivato di Alonso a distanza il secondo ruolo è un'altra 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 No? PANCHO 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 CITOS PANCHO PÚBLICAS PANCHO 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 6... 8... 9... 9... 9... 10... 10... il gruppo bene Romano bene per il tiro mi ruota mi ruota Décimo quarto Décimo quinto Décimo sexto Décimo sexto Ben Se gano Joey, se gano il tapio Décimo 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 Décimo